ciao ragazzi eccomi sono tornato con le sfide totti numero uno allora la sfida di oggi dopo tanto tempo tanto 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 tempo abbiamo ricominciato con le sfide queste sfide sono semplici basta che mi ricordo di fare gli scambi per i totti prima che scadono che l'altra volta sono rimasti con gli altri gettoni che non li ho usati quindi qualche premio l'ho perso e questi sono i giocatori come potete vedere tutto scambia non scambiabile se mi ricordo questo dovrebbe essere l'ultimo ok ok prima il gettone primo il primo gettone totti completato il pacchetto zinco prime non ci interessa il pacchetto basta che la mano si faccio qualche cosa altro da mettere sul mercato sicuramente lo metterò più presto possibile io vi ringrazio tantissimo ragazzi e ci vediamo con un prossimo ciao ciao